Eeeh, da Michele qui, Miki Kiki, vabbè non fate caso a quello che dico perché siamo in crisi, siamo io e Salvo, che stiamo giocando, che stiamo giocando a The Evil Within, non è gameplay, stiamo giocando così tanto per divertimento, siamo inseguiti da un mostro con la moto che è una buona mezz'ora che è tentativa, una buona mezz'ora che siamo sempre a stessa tattica, stesso, la sponda, la sponda alla porta, vai, 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 l'ho preso, l'ho preso, muorici, muori, lo brucio, lo brucio, lo brucio, Non lo puoi bruciare, non lo puoi bruciare, che cazzo fai, tutta la testa, la concentrazione, ragazzi, è una buona, che cazzo, compa lo devi rifare fino a quando non muore, lo sai, dovevo andarci correndo e lo bruciare, per la prima volta il gioco horror, lo sta facendo lui, io sto guardando, mi metti con le mani perché stanno giocando, vai, corri, Devil Within, gioco, ragazzi, Un horror veramente ... Tua madre, con ... No, 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 l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso, no, non l'ha sfondato, È scorretto, non va, ehi. Guardatelo, guardatelo, guarda come rincojonisce, ma come si fa? Sto qua a babbiare troppo. Sì, veramente, sto, sto per morire. La sponda quando esce, che non ha senso. minchia t'ho fottuto hai cambiato il giro non vale tu imbrogli tu imbrogli no ma non mi fa minchia è fangco prima o poi morirà sponda sponda l'hai lisciato l'hai lisciato no 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 non mi fare queste cose giro giro tollo quanto è bello il mondo guardalo l'incaglianisce corri corri no no a puntata devi correre perché sennò ti vincere la resistenza ragazzi ce la faremo mai non lo so no 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 che ti cambia il giro vai 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 ma che non vale pezzo di mente non vale ma dov'è tu bari sei stanco piccio sono morti ragazzi è morto siamo morti siamo assolutamente morti la sponda la sponda sei un coglione l'abbiamo preso è morto è morto è morto è morto inquadrami è morto è morto è morto è morto l'ho incisa che è successo mille blu mille blu eh va bene va bene ok va bene ragazzi sono le 5 e mezza ma sempre che ho corso io ti giuro sono le 5 e mezza prendi sta vincere di sempre prendi sta e dalle 5 e mezza ragazzi allora guardato sono le 5 e 35 e dalle 4 e mezza che siamo con questo che uccide ci vuole uccidere quindi vi saluto da Michele sempre con i guanti perché mai più che mai con questo gioco mi si dono le mani questo è cazzeggio time da salvo no ragazzi come stai sembra che l'ho corsa però io questa cosa è tutto con Emil V Team senza munizioni a riuscire a tutti ciao spero che la sega rimanga nostra che lo so